nooo ci vuole fredda fredda permesso chi è? il medico vostro è venuto qua quella birbante chi sarebbe? mia moglie ci c'è l'ha già compilata con me il santulato eh tu vieni qua vieni qua ma che devi fare siediti qua raccontami con calma che è successo? ma tu hanno per forza da me di denaro per sfruttare i denti nuovi è caduta? si è spezzata la dentina? non è caduta si è spezzata via con tutti i buffetturi oddio mio ma se lei si mangiasse lo semolino a te dire non ha corrisse ma benico ma quante volte te lo devo dire tu non devi picchiare tua moglie e la sera non devi bere molto vino un vino e abbattiti qua sotto ma che cosa ti ha fatto? che cosa ti ha fatto? innanzitutto mi fece fissa ma che? ha usato una manetta e si è fatto tutto in una manetta e vabbè succede e poi guarda figlio ma ci ha fatto la fredda e mica è colpa sua? è colpa sua si ma che? non ho messo sbagliato ancora oh uno maschio uno e tengo però caro con la luce che sto staici lontano a faticare staici a turismo eh non santo io non vado a Svizzera e mi vado a faticare sotto i minuti ma che cosa vieni qua menico per amor di dio menico io non posso fare niente per te lo sai aspetta io non posso fare niente...